Questa è l'antica Pinerolo, eh, una volta non scherzavano mica, eh. Queste cittadine piemontesi le sanno conservare le loro tradizioni. Guardate un po', c'è ancora l'antica Insegna de Moussou Ferrua, l'inventore del galù. Scommettiamo che lì dietro c'è ancora il suo vecchio forno. Cosa vi dicevo? Si può? Mi sembra quasi di sentire il profumo del suo famoso panettone. Il sabato mattina Moussou Ferrua accendeva il forno e poi impastava... Farina del mulino, uova di fattoria, burro di montagna, uva sultanina, frutta candita, vaniglia a pezzetti e crema di nocciole piemonte. Che dopo la cottura si trasforma nella famosa copertura croccante che fa del panettone galù la parte alta del panettone. Galù, da sempre, la parte alta del panettone. Grazie. Grazie.